Pertanto, miei fratelli diletti e desiderati, mio gaudio e mia corona, perseverate così nel Signore, o diletti. Raccomando ad Evodia ed esorto Sintiche a vivere in buona armonia nel Signore. Prego caldamente anche te, o sincero Sizzigo, di aiutarle, perché hanno strenuamente lottato con me per il Vangelo, insieme a Clemente e ai restanti miei collaboratori, i cui nomi sono scritti nel Libro della Vita. Siate sempre allegri nel Signore, ve lo ripeto, siate allegri, la vostra amabilità sia conosciuta da tutti gli uomini. Il Signore è vicino, non angustiatevi nulla, ma in ogni necessità, con la supplica e con la preghiera di ringraziamento, manifestate le vostre richieste a Dio. Allora la pace di Dio, che sorpassa ogni preoccupazione umana, veglierà in Cristo Gesù sui vostri cuori e sui vostri pensieri. Per il resto, fratelli, quanto c'è di vero, nobile, giusto, puro, amabile, lodevole, quanto c'è di virtuoso e merita applauso, questo attiri la vostra attenzione. Mettete in pratica quello che avete imparato, ricevuto, udito e visto in me. E il Dio della pace sarà con voi. Mi sono molto rallegrato nel Signore a vedere finalmente rifiorire i vostri sentimenti per me. Certamente li coltivavate anche prima, ma vi mancava l'occasione. Io non parlo spinto dal bisogno. Ho imparato infatti a bastare a me stesso in qualunque condizione mi trovi. So privarmi ed essere nell'abbondanza. In ogni tempo e in tutti i modi sono stato iniziato ad essere sazio e a soffrire la fame, a vivere nella giatezza e nelle privazioni. Tutto posso in colui che mi dà forza. Ciò nonostante, avete fatto bene a condividere le mie tribolazioni. Proprio voi, filippesi, sapete che all'inizio della evangelizzazione, quando lasciai la Macedonia, nessuna chiesa aprì un conto con me di dare e di ricevere, eccetto voi soli, e che una o due volte, mentre ero a Tessalonica, avete provveduto alle mie necessità. Io non cerco il dono. Cerco piuttosto il frutto che si accresce sul vostro conto. Ricevo tutto e sto nell'abbondanza. Sono ricolmo, avendo avuto da Epafrodito i vostri doni, profumo soave, sacrificio gradito, che piace a Dio. Il mio Dio soddisferà ogni vostro bisogno in proporzione della sua ricchezza, in Cristo Gesù. A Dio e Padre nostro, gloria nei secoli dei secoli. Amen.